Ciao a tutti, oggi apriremo insieme alcuni dei pacchi che mi sono arrivati in questi giorni da parte di AbitCart, che ringrazio ufficialmente, scoprendo moltissime delle novità presenti all'interno del loro sito. A tra poco! A tra poco! A tra poco! Bene, nei prossimi giorni faremo degli altri video, apriremo dei nuovi pacchi e magari guarderemo da più vicino le altre novità di casa Abit. Ciao a tutti e grazie! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!